Al Polo Fieristico di Morbegno, domani e domenica, andrà in scena la Fiera delle Associazioni, un'occasione per fare del bene divertendosi. Organizzata da Valbrics, le diverse realtà attive sul territorio si mostreranno, presentando le attività che svolgono quotidianamente. Dabato e domenica ci saranno tante associazioni, una decina, presso il Polo Fiera di Morbegno, dove sono lì per aspettare i visitatori. L'ingresso è gratuito, non c'è da pagare nulla, e in più ci sarà un'area gioco per i bambini che vorranno intrattenersi, e anche gli adulti, perché faremo giocare anche loro con i Lego. L'obiettivo è quello di fare rete, in modo che possa nascere una stretta collaborazione tra le diverse associazioni valtellinesi. Non mancheranno i giochi con i Lego a cura di Valbrics, e grande ospite domenica sarà Stefano Bronzato, vincitore di Taglia Sgottale in 2021. La manifestazione è appunto la fiera delle associazioni, dove si vuole creare una piccola rete dove tutte le associazioni si danno una mano, ed è una manifestazione senza scopo di lucro, quindi non abbiamo un discorso di biglietto. Due giorni quindi per conoscere i volontari delle associazioni, un'occasione per promuovere il tessuto sociale locale e favorire la collaborazione tra le diverse realtà associative.